Inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Sassari, ospite d'onore il maestro Beatrice Venezzi, la più giovane donna direttrice d'orchestra in Italia. Mariangela Bisanti. 29 anni in discusso talento della musica, apprezzata in tutta Europa, ha aperto il 457esimo anno accademico dell'Università di Sassari con una lezione magistralis dedicata a Giacomo Puccini. Beatrice Venezzi è la più giovane direttrice d'orchestra donna in Italia e proprio il binomio tra la sua giovane età e gli alti obiettivi raggiunti in carriera l'esempio benaugurale più grande con cui l'Ateneo ha voluto salutare i suoi nuovi iscritti. Niente è impossibile, tutti i tabù possono essere infranti, i sogni si possono realizzare con lo sforzo ovviamente, dedicando il proprio tempo, le proprie energie, tutti se stessi interamente ai propri sogni e alla realizzazione dei propri sogni appunto. Il talento è fondamentale ma non è niente senza lavorare anche sulla tecnica, su tutti questi aspetti. Tra gli obiettivi che l'Università si prefigge per l'anno, l'incremento dell'internazionalizzazione dei servizi e degli spazi agli studenti. Un Ateneo che abbia la possibilità di competere con gli Atenei internazionali e con gli Atenei nazionali e l'internazionalizzazione, la dematerializzazione, la semplificazione della struttura amministrativa sono armi fondamentali. Tra i risultati raggiunti, l'assunzione di circa 100 docenti e 65 addetti tecnico-amministrativi.